Che fai? In questo modo lavoro ovunque con il mio PC Ho tante applicazioni e poi gli amici di Messenger sempre con me Ah, ho anche la posta Così invio messaggi quando voglio Anch'io Ed è tutto qui dentro Con Windows Phone Che succede? Ho aggiunto un nuovo amico su Messenger